La procura è sotto organico, gli avvocati lecchesi prendono carta e penne e scrivono al procuratore generale della Corte d'Appello di Milano a rischio l'amministrazione della giustizia penale. Figliera del legno e valorizzazione dei boschi, la comunità montana della Valsassina vince un bando da 3 milioni di euro per promuovere uno sviluppo sostenibile del territorio. Nonostante le pioggi, il livello dell'ario desta ancora preoccupazione. La siccità estiva ha causato alle aziende lecchesi danni per quasi 8 milioni di euro. Buonasera, buonasera a tutti. Un magistrato trasferito, un'altra in maternità anticipata. La procura di Lecco è sotto organico. Secondo gli avvocati lecchesi è una situazione grave che rischia di pregiudicare l'amministrazione della giustizia penale del nostro territorio. Lettera aperta al procuratore generale della Corte d'Appello di Milano. Sentiamo. La procura di Lecco è sotto organico. Gli avvocati prendono carta e penna. Il presidente dell'ordine degli avvocati di Lecco, Lia Campanieli, Edoardo Pacia, presidente della Camera Penale di Comoelecco, hanno scritto una lettera al procuratore generale presso la Corte d'Appello di Milano, Francesca Nanni, dedunciando la grave situazione di carenza di organico che affligge la procura del Tribunale di Lecco. In meno di una settimana, si legge, si è perfezionato il trasferimento ad altra sede di un sostituto procuratore in ricorso alla maternità anticipata di un altro. Attualmente la procura di Lecco può contare solamente sul procuratore capo e su un sostituto i quali devono far fronte alle incombenze dei turni, alla partecipazione alle udienze preliminari e a quelle avanti il Tribunale in composizione collegiale, nonché alla direzione delle indagini di migliaia di fascicoli, oltre alle attribuzioni previste dalla legge e per il procuratore agli impegni per la carica. Una situazione che preoccupa il senso di responsabilità e l'impegno profuso che caratterizzano l'operato del procuratore e del suo solo sostituto, proseguono gli avvocati, non sono certo sufficienti a ovviare a una situazione allarmante che rischia di protarsi per alcuni mesi, determinando così un documento alla pronta e regolare amministrazione della giustizia nel nostro territorio. Le condizioni in cui versa una parte processuale, puntualizzano gli avvocati, possono compromettere il corretto esercizio della giurisdizione penale. Chiude la lettera un appello al procuratore generale. Pur consapevoli della rigidità e delle tempistiche che caratterizzano le procedure per l'applicazione temporanea di ufficio di un magistrato, concludono i legali, auspichiamo un suo intervento per accelerare i tempi tecnici, ovvero per sensibilizzare i sostituti procuratori del distretto a un'adesione volontaria nella prospettiva di garantire il corretto, quanto almeno il meno disagiato possibile, funzionamento della giustizia penale nell'ambito del circondario del Tribunale di Lecco. Ora la cronaca in cursione notturna al castello di Vezio, i gnoti scavalcando le mura di cinta hanno scassinato cinque vogliere all'interno delle quali si trovavano altrettanti rapace. A comunicarlo con un post pubblicato su Facebook, Nicola Castellano, falcognere di Perledo, che da 16 anni si occupa di loro. Un falco è già stato trovato morto, ucciso e mangiato da un altro rapace, degli altri nessuna traccia. Nel castello vivevano infatti il barbagianni Semola, che ha 15 anni, le due poiane Linda e Parsifal, una delle quali ha 21 anni, e il gheppio Merlino. Spero che chiunque sia stato possa almeno adesso capire che erano animali nati in cattività, aggiunge Nicola, incapaci di sopravvivere in natura, che venivano accuditi giornalmente, abituati alle persone e soprattutto addestrati al volo libero. Oltre a sporgere denuncia, Nicola spiega che le riprese di tutte le telecamere del castello sono già state consegnate alle autorità. Lancia anche un appello a chi avesse visto qualcosa. Importante finanziamento dal PNRR per la Valsassina. La comunità montana ha vinto un bando da più di 3 milioni e mezzo di euro per uno sviluppo sostenibile del suo territorio. Tra gli interventi previsti è un nuovo gasificatore e un impianto di stoccaggio delle castagne. Vediamo. Più di 3 milioni e mezzo di euro per uno sviluppo a misura d'ambiente del territorio prealpino della nostra provincia. La comunità montana della Valsassina è una delle 35 green communities italiane finanziate nell'ambito del PNRR. Prima per punteggio in Lombardia arriveranno precisamente 3 milioni e 630 mila euro a fronte di un progetto dall'importo complessivo di quasi 5 milioni. Obiettivo sfruttare in modo equilibrato le risorse principali che il territorio offre insieme al paesaggio rurale. Nel dettaglio è prevista la gestione certificata del patrimonio agroforestale, della biodiversità e della filiera del legno, la produzione di energie da fonti rinnovabili locali, lo sviluppo di un turismo sostenibile, capace di valorizzare le produzioni locali, la costruzione e la gestione verde del patrimonio edilizio e delle infrastrutture di una montagna moderna, l'efficientamento energetico e l'integrazione intelligente degli impianti e delle reti, oltre che dei servizi di mobilità. Tra gli interventi più importanti, la realizzazione di un gasificatore, a fine di produrre energia elettrica e calore da fonti rinnovabili e biomasse, sarà a servizio delle strutture pubbliche, in funzione della potenza e della posizione degli edifici. Previsto inoltre l'efficientamento di Casa Merlo, adibita ad uffici località Fornacea-Barzio, e la realizzazione di un impianto di stoccaggio e trasformazione delle castagne. Infine saranno realizzate nuove piste ciclopedonali, oltre ai itinerari ciclo-escursionistici, accompagnati da servizi come l'installazione di colonnine di ricarica per e-bike. Ora parliamo di siccità. Le piogge cadute in queste settimane non hanno migliorato la situazione dell'ario. Il livello dell'acqua rimane ancora al di sotto della media stagionale. La siccità ha causato alle aziende lecchesi danni per quasi 8 milioni di euro. Non bastano le piogge o i primi fiocchi di neve. Il livello dell'ario continua a preoccupare. Le precipitazioni cadute nelle scorse settimane hanno risollevato dai minimi storici il livello del fiume Adda, ma non bastano certo a cancellare l'estate più calda e siccitosa che la memoria ricordi. Dopo essersi risollevata nella prima metà di settembre, seppur rimanendo sotto la media storica, la curva dell'altezza dell'ario, malgrate, è tornata a scendere. Complice al tempo ancora asciutto, sta puntando verso i livelli minimi registrati dal 1946 a oggi. Dal 21 giugno al 7 settembre, l'altezza dell'Adda ha seguito la curva dei valori più bassi mai rilevati, segnando purtroppo in diversi casi record negativi. A oggi il fiume registra un livello che ammalgrate uscilla fra i meno 25 e i meno 30 centimetri sotto lo zero idrometrico. Si tratta di un valore inferiore 10 volte al massimo registrato nel 1976. E se il livello registrato è d'allarme giallo, l'afflusso e la portata erogata, ovvero la quantità di acqua in ingresso e in uscita dal lago, sfiora i minimi storici. C'è un altro aspetto da non dimenticare. La diga di Oginate sta continuando a garantire il deflusso minimo vitale alle centrali idroelettriche a valle, segno che la crisi non è stata ancora del tutto scongiurata. Come più volte evidenziato, oltre all'assenza di precipitazioni estive, la mancanza di acqua è stata causata dalle poche precipitazioni invernali dei mancati accumuli di neve sulle vette e sui ghiacciai alpini. Fra le province di Recco e Sondrio, l'ondata di siccità ha causato oltre 21 milioni di euro di danni. Nella nostra provincia la regione ha raccolto 371 richieste di risarcimento da altrettante aziende, per una cifra che sfiora gli 8 milioni di euro. Il progetto Punti Informatici Territoriali si amplia sul territorio lecchese grazie alla collaborazione di enti del terzo settore e con il sostegno del Fondo Aiutiamoci. Fino alla fine del 2023, la possibilità di acquisire incompetenze digitali per la ricerca di un lavoro. Vediamo. Secondo il rapporto DESI 2020, solo il 42% degli italiani tra i 16 e i 74 anni possiede competenze digitali di base e solo il 22% dispone di competenze digitali superiori. Abilità sempre più richieste dalle aziende. Solo in provincia di Lecco, migliaia di persone rischiano di rimanere escluse dal mercato del lavoro a causa di una bassa qualificazione professionale e di una limitata conoscenza informatica. Per mutare questo andamento, ma innanzitutto per facilitare la ricerca stessa del lavoro, le culture, insieme ad una rete di partner e grazie al sostegno della Fondazione Comunitaria delle Chese con il Fondo Aiutiamoci, ha attivato il progetto PIT, Punti Informatici Territoriali. L'obiettivo del progetto è quello di fornire delle competenze digitali utili alla ricerca attiva del lavoro per cui il nostro scopo è quello di lavorare con persone che possono essere giovani segnalati dall'informa giovani o persone con delle fragilità che ci vengono segnalate dall'agenzia mestieri per cercare di dotarle di competenze che sono sempre più indispensabili a renderle autonome nella ricerca attiva del lavoro attraverso canali informatici. Il progetto prevede l'attivazione di volontari che vengono coinvolti e formati dal Centro Servizi al Volontariato di Lecco. Ad oggi abbiamo lavorato con circa 70 volontari e altrettanti beneficiari e i dati ci dicono che l'80% circa dei beneficiari che sono passati attraverso il progetto hanno poi trovato un'occupazione. Punti di forza del progetto è il rapporto uno a uno tra volontario formatore e beneficiario e la diffusione sul territorio proprio grazie alla rete di partner che aderiscono all'iniziativa. La rete del partenariato delle associazioni è molto importante e coinvolge l'Associazione Le Culture che è il capofila, il Centro Servizi al Volontariato, c'è Lezioni al Campo, c'è Arci, c'è il Circolo Spazio Condiviso di Calolzio, Centro Farmaceutico Missionario di Val Madrera e l'Associazione San Vincenzo De Paoli. Questa rete ci consente di dare delle risposte sempre più vicine agli utenti perché ciascuna di queste associazioni mette a disposizione i suoi spazi per svolgere i percorsi formativi. Domenica alle 16.30, auditorium della Casa dell'Economia, uno spettacolo di mimo d'eccezione sul palcoscenico quattro attori dell'Accademia di Arte Cercensi di Kiev. Anime leggere, questo è il titolo, è un viaggio pieno di risate nella commedia della vita tra poesia e satira sociale. L'ingresso è gratuito. Cibo locale e delivery sociale, il progetto Quelcheghe, finanziato da Fondazione Cariplo e Cooperativa Il Grigio, traccia un primo bilancio. 60 le famiglie che si sono abbonate, tonnellate di frutta e verdura consegnate. A un anno dal lancio dell'iniziativa eco-solidale Quelcheghe è il momento di tirare le somme. Alessio Dossi, coordinatore del progetto che prevede la consegna a domicilio di frutta e verdura a chilometro zero, spiega che l'impatto ambientale di questo sistema è quasi dimezzato rispetto alla grande distribuzione. Possiamo dire che questo progetto che abbiamo lanciato, che si occupa appunto di fare distribuzione porta-porto di frutta e verdura locale, delle aziende agricole locali, con il supporto di cooperative sociali, quindi anche con un elemento sociale alle spalle, arriva ad un bilancio. Questo bilancio ci dice che in questi mesi abbiamo consegnato più di 7 tonnellate di frutta e verdura del territorio a più di 60 famiglie che sono abbonate in questo momento a questo progetto. Il progetto prosegue, andrà avanti nel futuro, la cooperativa Il Grigio si fa carico di questo sistema di delivery, di distribuzione e di conseguenza aumenteranno anche i dati di quelli che sono appunto le consegne. Fino ad ora siamo arrivati a circa 1800 consegne in questo anno e la speranza è quella di proseguire in questo senso. Ridotti impatti ambientali perché la filiera appunto come detto è locale, siamo tutto sul territorio di Lecco. Ridotti impatti anche sociali perché lo fanno cooperativi sociali che attraverso questi progetti inseriscono persone che possono avere degli svantaggi sociali e in più anche economico perché supportiamo le aziende agricole che vivono e lavorano nel nostro territorio. A Galbiate è stata inaugurata la stagione del Ferrari, la sala parrocchiale che anche quest'anno propone numerosi appuntamenti di qualità dal cinema all'arte e al teatro. Riparte la stagione del Cineteatro Ferrari. Cosa proponete? Proponiamo innanzitutto cinema, oltre alla programmazione del sabato e la domenica con film anche in prima visione, proponiamo un cineforum veramente interessante, 32 film che quest'anno verranno proposti non solo al venerdì sera, lunedì sera e giovedì sera ma anche al giovedì pomeriggio, questa è un po' una novità. Poi non possiamo dimenticare la rassegna della grande arte al cinema e poi appunto teatro. Abbiamo deciso di fare della nostra sala una sala diciamo polivalente e quindi cominciamo con questo teatro in famiglia, cioè un teatro dedicato soprattutto ai bambini e ragazzi in collaborazione tra l'altro con l'associazione Tram di Garlate. Inizieremo sabato 8 ottobre alle ore 16.30 con gli eccentrici da Darò, con lo spettacolo Il viaggio di Giovannino di e con Andrea Roberti. Andrea Roberti che è un grandissimo attore milanese e che avremo la fortuna di avere appunto sul palco qui di Galbiate. Il secondo spettacolo che sarà il 12 di novembre è una produzione di Tram che si chiama Volo via con la fantasia e infine termineremo con la fabbrica dei baci di intrecci teatrali. Sono tutti e tre spettacoli che hanno a che fare con la fantasia, l'immaginazione perché vogliamo che il teatro di Galbiate possa diventare uno strumento per i bambini di sognare ad occhi aperti. Cineteatro Ferrari che è stato anche di recente sottoposto a importanti interventi di ristrutturazione. Abbiamo dotato la sala di aria condizionata, appunto di nuove poltrone, quindi è molto molto bella e super confortevole e appunto di un nuovo palco. Questo palco vogliamo in certo senso inaugurarlo oltre che con il teatro, con la rassegna teatrale per i bambini, anche con un concerto tenuto dall'associazione Stoppani in Musica che si terrà appunto alle 21 di sabato 15 ottobre. L'ingresso è libero e per cui aspettiamo davvero tanta gente. Ora parliamo di turismo, al via il nuovo itinerario centro, l'Ariotour, biglietto integrato, treno più battello per raggiungere il lago da tutta la Lombardia e visitare le nostre sponde con 26 euro a persona. Vediamo. Sulla scia del successo di quest'estate del rilancio della navigazione parte un nuovo itinerario, ce ne parla? Sì, centro l'Ariotour è una nuova iniziativa fortemente voluta dalla provincia di Lecco e dalla presidente Hoffman. Stiamo lavorando evidentemente per un rilancio della mobilità con un biglietto integrato sul ramo lecchese del lago di Como. Un obiettivo importante, quindi l'invito da parte nostra a tutti i turisti, ai cittadini a prendere questo biglietto integrato per visitare il ramo lecchese e i comuni di Lierna, Varenna, Bellano e Bellagio. Quale sarà l'itinerario nel dettaglio? Allora, l'itinerario praticamente prevede la possibilità di usufruire della navigazione dalle stazioni di Lierna, Varenna e Bellano. Una volta scesi, diciamo, in una di queste stazioni si può tranquillamente usufruire del servizio della navigazione per un tour di centro lago e visitare tutti i comuni del centro lago anche dell'altra sponda, quindi anche Menaggio, Tremezzo, Bellagio e goderà pieno delle meraviglie di questo posto. Un progetto che nasce dalla sinergia anche con Trenord. Quanto costa il biglietto integrato e come si può usufruirne? Beh, allora, si può usufruirne da tutti i canali di vendita, acquistando tutti i canali di vendita di Trenord, quindi biglietterie, sito web, app. Il costo è chiaramente da tutta la Lombardia 26 euro, ridotto per i ragazzi. Estrema flessibilità, economicità, è l'idea che piace, piacerà molto, così come la prima idea del primo bacino che è stata lanciata ad aprile. Bene, questo era l'ultimo servizio, vi ricordo l'appuntamento sul web con il nostro sito, la nostra web tv, la nostra presenza sui principali social. Vi auguro una buona serata.